ciao amici sono lox bentornati sui fatti e le opinioni di lox il canale per i veri malati di sport cominciano le semifinali di playoff di serie b inizio col super botto il cittadella batte 3 a 0 il monza punteggio assolutamente corretto non pensiate a una sorpresa non pensiate a qualcosa di clamoroso è semplicemente il risultato di quello che si è visto sul campo una squadra contro un gruppo di 11 giocatori con la maglia bianca una differenza abissale riguardo al modo di disporsi in campo riguardo al modo di interpretare la partita riguardo alla capacità di sfruttare le occasioni che la partita ha dato ok il monza rimane una squadra che se parliamo della potenza della forza dei singoli ha i suoi valori alla sua forza io non credo già che il ritorno possa darsi già per vinto per chiuso il monza ha comunque le forze per poter ribaltare la partita però se la mettiamo sul piano della squadra e di quello che le due squadre hanno saputo mettere in campo oggi non c'è assolutamente partita cambia tutto all'inizio subito il monza trova un gol attorno all'ottavo minuto decimo minuto più o meno calcio d'angolo mischione in area calcio d'angolo che nasce da una folle costruzione da dietro del cittadella adorni perde la palla salva su dio rischiando anche un po possibile rigore ma è chiaro nella deviazione in calcio d'angolo sul calcio d'angolo mischia incredibile dio trova il gol del vantaggio monza che quindi sembrerebbe aver incannato la partita peccato che la palla è uscita durante il calcio d'angolo il gol è annullato grazie all'aiuto del var che conferma la decisione dell'assistente dell'arbitro iroldi due minuti dopo in un'azione da monza con il cittadella che tiene il possesso di palla un imbucato eccezionale per baldini che trova il gol del vantaggio su un errore di piazzamento della difesa del monza in particolare di bettella che sarà una costante di questa partita cambio subito pochi minuti dopo nel monza esce pesce paletta leader della difesa infortunato entra scaglia il monza si schiera con una temibile linea difensiva pirola scaglia bettella che sarà una delle chiavi della partita dio qualche minuto dopo in un contrasto abbatte frare frare esce per farsi medicare poi dovrà uscire anche proprio della partita il cittadella in dieci castrati batte un calcio di rinvio della tre quarti lunghissimo buco difensivo clamoroso della difesa del monza ancora baldini bravissimo a inserirsi e a trovare il gol del 2 a 0 nel giro di una ventina di minuti il cittadella è già avanti due a zero il monza non ha reazioni il cittadella gioca benissimo il monza sostanzialmente non riesce neanche ad arrivare a tirare in porta c'è solo una bella azione con una conclusione da fuori area di carlos augusto un tiro che finisce largo in un'azione in cui frattesi recupera il pallone frattesi è l'unico elemento del monza che abbia a cuore questa partita frattesi lo vedremo più volte lamentarsi anche inveire contro i compagni cercare di caricare una squadra che assolutamente non riesce ad avere un'emozione nel corso di questa partita arriviamo alla pausa 2 a 0 per il cittadella il punteggio è assolutamente sacrosanto nel secondo tempo per una quindicina ventina di minuti la partita va avanti quasi un po su una chiosa e il cittadella che ha comunque il possesso di palla nel monza davanti c'è dio che combatte si sbatte fa falli sgomita prende un cartellino giallo lotta comunque qualcosa prova a farlo danni motta molto poco il monza fa le sostituzioni finalmente entra colpani colpevolmente dimenticato da brocchi che credo che sia uno dei maggiori responsabili di questa tremenda serata per la formazione brianzola con l'ingresso di colpani nasce un altro monza attorno al 70 settantesimo settantacinquesimo minuto il monza si riversa in avanti forse cittadella si spaventa un pochino sente un pochino l'importanza della posta in paglio e di quello che sta facendo e copertina del video c'è il gol più bello della serata ovvero un'incredibile parata di castrati che su un colpo di testa di danni mota va a togliere la palla dall'angolino sulla ribattuta frattesi è un po sfortunato tira la palla alta è l'unica occasione reale da gol al di là delle statistiche che vedremo più avanti reale occasione del gol del monza qualche minuto dopo il cittadella trova il gol del 3 a 0 anche in questo caso c'è una percussione sulla sinistra donnarumma esplosivo uno dei migliori in campo ara la fascia sinistra per l'ennesima volta la sua conclusione viene respinta da di gregorio in mezzo all'area nuovamente bettella lentissimo baldini bravissimo a ribedire in rete trovare il gol del 3 a 0 punteggio come dicevamo a mio avviso corretto anche nella definizione perché il cittadella ha veramente giocato una partita straordinaria dominata da ogni punto di vista migliori in campo castrati decisivo come dicevamo con questa parata fondamentale copertina del video donnarumma sulla fascia straordinario buona la difesa centrale ammonito adorni per l'ennesima volta in questo campionato che salterà il ritorno bisogna vedere anche frare come starà per il ritorno quindi possibilità di qualche problema di formazione per la formazione di venturato molto buono iori un vero vero leader del centrocampo baldini tripletta più di così cosa si può chiedere eccezionali zia du e ogni ogni un sieghe per quello che sono riusciti a fare in avanti a tenere i palloni cittadella che ha veramente dominato ogni area del gioco per il monza come dicevamo da salvare il solo frattesi che ha una grinta che se avesse anche solo un altro giocatore della squadra cambierebbe da così a così l'intero monza e poi colpani colpani colpevolmente dimenticato da brocchi che a mio avviso ha sbagliato la formazione poi è stato sfortunato con paletta ma colpani non può partire dalla panchina ha giocato malissimo armellino da segnare invece nel libro dei giocatori peggiori in campo per il monza bettella scaglia armellino barbaris barbaris annullato completamente dal gioco non è riuscito minimamente a creare a dare fosforo al gioco del monza quindi un punteggio severo ma assolutamente giusto sul quale credo non ci possano essere recriminazioni dati sulla partita 47 53 il possesso di palla 12 a 18 sono però i tiri per cui il monza comunque ha provato a concludere 6 a 7 nello specchio ma se la mettiamo dal punto di vista del gioco il cittadella ha dominato le facce ha dominato in mezzo al campo ha dominato le seconde palle ha controllato il ritmo del gioco ha avuto una carica in più anche emotiva credo che non ci siano aree nel quale il monza da questa partita possa uscire con con degli elementi positivi rimane poi la follia a mio avviso il monza è una squadra che appare senza anima c'è bisogno di un'anima l'anima il capitano del ricco inquadrato nel finale con una faccia tremenda che credo dimostrazione della sua voglia di spaccare tutto il monza ha bisogno di partire da certezze certezze che credo siano anche l'attaccamento alla maglia quello che invece cittadella è un gruppo e una squadra sono elementi tutti in una unica direzione cosa che nel monza non si vede tanto barotelli entrato nel finale anche lui ha tirato solo una punizione da fuori dopo aver preso un colpo in faccia da dormi e per il resto non è riuscito a incidere dio non mi è dispiaciuto non lo avrei sostituito di chi era entrato non ha combattuto ha lottato mi sarebbe piaciuto per quanto l'occasione migliore del monza l'avuta da animata mi sarebbe piaciuto vedere dio e git che era insieme piuttosto che danni morte di chi è arbitro dell'incontro ai roldi di molfetta arbitro che mi piace tantissimo 36 falli 6 cartellini gialli per lui il voto è comunque 7 un paio di cartellini gialli quali iniziali a frattesi forse un altro a proia mi sono sembrati un po eccessivi ma nel complesso mi è piaciuto molto questo arbitro del 91 la capacità che ha di tenere la partita con tranquillità con sorriso senza arroganza veramente un grande arbitro per cui a mio avviso una prestazione molto molto positiva io credo che il ritorno possa essere comunque combattuto ripeto se la mettiamo sul punto di vista solo del gioco non c'è partita per al monza o ragazzi questi giocatori primo poi qualcosa non devono provare a dimostrare hanno questa occasione fondamentale nella partita di ritorno quindi giovedì credo che sarà una partita assolutamente da non perdere telecronica mastroianni e schwok voto 7 molto bravi una bellissima telecronica noi ci vediamo più tardi con il video di venezia lecce la seconda semifinale grazie per l'attenzione like se vi piace il video iscrivetevi al canale e naturalmente campanellina per essere avvisata di prossimi contenuti a più tardi per la prossima semifinale un bacio ciao a tutti buona serata